Che dico? Che dico? Princesa... Che va? Che sos vos? Una princesa. E come tu chiamas? A vostena. E come è che sos una princesa? Dei papi. Ah, una princesa dei papi? Si. Hola, soy una princesa. Me chiamo Agostino e soy una princesa. Hola, soy una princesa. Me chiamo Agostino e soy una princesa. Mi soy dei papi. Mi soy dei papi. Ciao. Ciao.